La nostra stagione agonistica è in pieno svolgimento sia per quanto riguarda l'Under 14 sia i cadetti giovani e assoluti. Noi torniamo da questo ultimo weekend con un bellissimo risultato ottenuto da Sofia Raggio Amoetling in Austria in una gara di Coppa del Mondo Under 20 di Fioretto Femminile la sua prima finale. Sofia accompagnata dal maestro Lorenzo Angelelli ha disputato una gara quasi perfetta cedendo il passo in finale soltanto al carabiniere pisano Irene Bertini. Altra esperienza positiva del weekend è stato un torneo svolto a Lignano Sabbiadoro da Lucrezia Canessa che ha partecipato sia alla gara cadetti che giovani, lei pur essendo cadetta ha finito la gara cadetti al secondo posto e quella giovani al terzo immagazzinando un bel po' di esperienza. Il prossimo weekend saremo impegnati alla Spezia in una gara di qualificazione assoluti zona nord dove parteciperanno oltre alla Canessa e alla Raggio anche Camilla Rivano, Alice Lisi e Cecilia Pendola. L'obiettivo è quello di qualificare più atleti possibili alla fase nazionale che si svolgerà a Lucca il 5 marzo. Il giorno prima, il 4 marzo, ci sarà la seconda prova sempre a Lucca del campionato giovani dove si sono qualificate sia Raggio che Canessa. Tantissima carne al fuoco in questo periodo di stagione che per noi è il clou della stagione che finirà con i campionati italiani di categoria cadetti e giovani che si svolgeranno a Padova mentre i campionati italiani assoluti quest'anno torneranno in Liguria. Infatti questa kermesse così importante, la più importante che organizza la federazione italiana scherma, quest'anno si svolgerà alla Spezia e noi contiamo di esserci sicuramente. Per quanto riguarda l'Under 14 qualche ragazzino si è messo in evidenza fra cui Barofi Olivia, Sebastiano Bruno e Priscilla Massa de Palma. Con loro e tanti altri ci sarà un impegno a marzo un interregionale in Toscana mentre il 15 e il 16 aprile ci sarà una gara nazionale a Dancona. Per loro il fine stagione sarà proclamato con i campionati italiani di categoria Under 14 che si svolgeranno come sempre con il Gran Premio Giovanissimi a Riccione. Che dire, le cose vanno molto bene anche se, se devo essere sincera, noi lo strascico della pandemia lo sentiamo ancora soprattutto nei numeri. Stiamo lavorando molto bene ma purtroppo i numeri non sono cresciuti, ma non perché i bambini abbiano abbandonato, cioè non sono proprio venuti in questi primi mesi di stagione. C'è da dire che prossima settimana il maestro Angelelli ricomincerà il lavoro nelle scuole con due progetti della Federazione Italiana Scherma, uno in una scuola elementare e in uno e uno nelle medie e quindi questo ci fa ben sperare perché comunque il nostro è un ambiente pulito, sano, vediamo che i ragazzini si divertono e quindi vale la pena di incrementare questi numeri.